Ho riunito qui alcuni rappresentanti del nostro gruppo di lavoro perché questo è stato in primo luogo fortissimamente un lavoro di squadra e questo è uno degli aspetti positivi. È chiaro che siamo di fronte a una tragedia di proporzioni inimmaginabili, sia sanitarie, malati, deceduti, sia sociali ed economiche. Ma quello di cui possiamo parlare oggi è stata l'intensa risposta del nostro gruppo di lavoro, in cui tutti quanti, medici, infermieri, operatori sociosanitari, autisti, soccorritori, ma anche i medici della Guardia Medica che fanno i codici bianchi e anche naturalmente le signore che hanno fatto la sanificazione costantemente e ripetutamente hanno avuto un ruolo fondamentale e indispensabile. Oltre al notevole impegno che c'è stato in questo periodo, è davvero stato molto forte, stimolante, da un certo punto di vista entusiasmante, se così si può dire in una situazione così drammatica, l'abnegazione di tutto il gruppo che magari all'inizio era perplesso o preoccupato, ma poi nessuno si è tirato indietro e questo va detto con forza e ci ha permesso di lavorare in maniera molto compatta, organica e sperabilmente non sono la persona giusta per dirlo, ma efficace. D'altro canto abbiamo avuto un forte supporto da parte delle direttive nazionali, delle direttive regionali, della direzione dell'ospedale e che abbiamo cercato tutti insieme di compattare in direttive pragmatiche applicabili, evolute da settimana in settimana, da giorno in giorno a seconda di come cambiavano, cambiava la situazione epidemiologica e le indicazioni anche internazionali. Ad esempio abbiamo aperto e utilizzato la tenda della protezione civile che è stata una importantissima collaborazione, abbiamo addirittura riaperto dei locali ristrutturati del vecchio pronto soccorso dell'ospedale dove abbiamo visitato alcuni dei pazienti nei momenti di maggiore pressione da parte dei pazienti. La collaborazione è stata importante non solo fra di noi, ma siamo un gruppo di corrodato perché abbiamo passato anche altre criticità, abbiamo avuto il periodo in cui è stata nel 2008, mi ricordo, la meningite. Siamo ogni giorno sempre sottoporsi a stress perché possiamo venire in contatto con altre malattie infettive, la tubercolosi, le meningite e quant'altro, quindi siamo anche abituati. Ma questa è stata una cosa molto più importante dal punto di vista psicologico perché ci ha visti anche come persone, appunto, metteci in gioco e cercare di valutare la persona, appunto, il paziente non solo come paziente, come malattia, ma in senso olistico. Questo anche in collaborazione con i colleghi degli altri reparti, tutti ci hanno teso la mano, non c'è stato mai nessuno che ha tirato indietro, appunto, è stato un lavoro veramente di squadra e io mi sento di ringraziare tutti, proprio anche a nome del pronto soccorso, dei colleghi, anche degli infermieri e delle infermiere. Per quanto riguarda le ambulanze, due fisse che abbiamo sempre per il servizio del 118, ne abbiamo apportata un'altra ore allestita di tutto punto e con gli ausili e presidi per affrontare l'emergenza nel territorio per i sospetti Covid o per i Covid conclamati. Questo ha portato un ulteriore cambiamento. Alcuni pazienti avevano bisogno o necessità di essere trasferiti in altri ospedali, in altre strutture e abbiamo allestito una quarta ambulanza dedicata solo ed esclusivamente per i trasferimenti. Ulteriore cosa, qual è stata la sanificazione dei mezzi per garantire al paziente successivo di trovare tutto pulito e disinfettato, sì che oltre alla vestizione e svestizione c'era pure il discorso della sanificazione dei mezzi che è praticamente abbastanza complicata con tutti gli ausili e presidi a bordo. Ogni giorno c'è stato un briefing continuo tra i coordinatori infermieristici primari e anche con quelli degli altri reparti interessati in cui si sono raccolti suggerimenti delle eventuali criticità, si è discusso di come andavano gestite i casi oppure altre procedure e si è provveduto appunto a sviluppare delle procedure che fossero semplici, facilmente attuabili nei vari ambiti, nei vari reparti anche in pronto soccorso. In questo periodo c'è stata una continua disponibilità e generosità da parte di tutti, abbiamo avuto per quanto riguarda gli operatori del pronto soccorso su una settantina di operatori, abbiamo avuto solo due operatori che sono stati infettati e come accennava la dottoressa Morellato prima c'è stato un rapporto più vero, più vicino ai pazienti sia perché noi eravamo il tramite tra loro e i parenti all'esterno. Il lavoro dell'infermiere in questo periodo è stato molto importante, inizialmente c'è da sottolineare che tutti avevamo una certa preoccupazione perché non conoscevamo la situazione, era tutta una novità per noi, quindi all'inizio eravamo preoccupati soprattutto oltre che per la nostra salute ma soprattutto per quella dei nostri cari a casa, quindi non riuscire a abbracciare i propri figli appena arrivato a casa è stata una cosa un po' difficile da affrontare. Dopo pian piano abbiamo cominciato ad avere fiducia, a prendere consapevolezza di tutte le procedure che ci venivano proposte dalla direzione, chiaramente l'azienda ci ha fornito di tutti i presidi di protezione quindi eravamo tranquilli da quel punto di vista. C'è da dire e da ringraziare soprattutto anche le grosse donazioni che ci sono arrivate in pronto soccorso in questi mesi da parte di privati, da parte di ristoratori e ci siamo sentiti parte della comunità in maniera veramente importante. Questo è una cosa che ci ha fatto piacere anche con piccole cose però ci ha riempito il cuore alla fine. Grazie a tutti.